Parliamo del CAL 9005, un termoregolatore del gruppo WEST che ha un software con cui è possibile configurarlo e con cui è possibile fare anche del logging. Stiamo vedendo che adesso stiamo registrando con un campionamento di circa un secondo il set e la misura dello strumento sottostante. Posso vedere anche i valori direttamente sullo schermo simulando un regolatore a schermo. Lo strumento ha la possibilità di essere programmato tramite la porta seriale. Se noi possiamo chiudere il log e aprire sia i valori dello strumento, dove è possibile poi andare nei singoli valori e editarli, oppure creare un programma, oppure creare una spezzata. Un programma composto da diverse spezzate e editarlo a video in maniera molto agevole. Con questo programma è possibile creare programmi, inserire spezzate, cambiare il tipo di spezzata stesso, fare una permanenza, delle rampe, degli step e fare anche dei loop sul se stesso. È possibile prendere col mouse e modificare a monitor direttamente spezzate. Si possono aggiungere segmenti, posso scegliere quanti segmenti aggiungere, e poi salvare e inviare sullo strumento.